sono sopra le botole beccato puoi a destra? aiuto no ora vai alla botola vai all'altra botola non so dove fai no 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 torna indietro lì lì quella porta lì io sento passi sono pure rilevato vai lì 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 vai la botola c'è nel bagno sotto di te c'è la finestra guarda quelli sono nei site lì hai il site già se scende ma non scendere se non sei sicuro restano 15 secondi guarda osa questo site però non piazza l'altro è a terra e ciò lo osa aiutare a posto guarda 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 il mercatore in campo il mercatore è in campo il mercatore è rimasto il mercatore è individuato scusatelo guarda 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 guarda